Buonasera a tutti, sono Jacopo Murganti, responsabile del colombario licencio a Gaiola e Chianti. Faccio un'introduzione della nostra azienda. La nostra azienda è posta a Gaiola e Chianti, nella parte sud del territorio del Chianti Classico. Siamo a 20 minuti da sede. L'azienda è composta da 15 ettari di biglietto specializzato, abbiamo 7.000 piante per ettaro e facciamo principalmente i vini rossi. Abbiamo il Futuro, che è il nostro vino di punta, poi abbiamo la gamma del Chianti Classico, i massi, sia riserva che normale, e poi abbiamo nel Monticello, che è il nostro Baby Super Tosca. La nostra azienda nasce con l'idea di fare vini di alta qualità, per cui tutti i nostri vini hanno la ricerca massima della perfezione e anche del rispetto del territorio. Siamo un'azienda biologica e per questo abbiamo 4 tipi di vino che rispecchiano un po' le nostre idee. Abbiamo due vini che vanno nella direzione del territorio, quindi sono Chianti Classico, quindi a base di San Giovese, mentre gli altri due abbiamo degli EGT con base di Cabernet, di Merlot e anche di San Giovese.